E' il caso di ricordare che in più di un'occasione gli uffici regionali preposti hanno avuto modo di sottolineare che violazioni di legge in ordine all'ilegittima attribuzione di incarichi di comandante possono configurare possibili ipotesi di danno. Era reale, lo scrive il cavo gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, Mauro Tirabassi, che ha depositato un'interrogazione rivolta a sindaco Anna Maria Casini per le selezioni del nuovo comandante della polizia locale. Tirabassi si chiede per quale motivo nel piano del fabbisogno del personale approvato successivamente al decreto sindacale del 17 ottobre 2019 numero 46 non è stata inserita la posizione del comandante di polizia locale ma con riferimento alle assunzioni 2020 solo la figura di specialista di vigilanza e perché nel decreto del 17 ottobre 2019 non si fa riferimento alcuno al fatto che l'ingarico di comandante è conferito in via temporanea nelle more dell'espletamento del concorso ed ancora perché nonostante sia trascorso più di un anno dal pensionamento del comandante litigante non si attivano le procedure per l'espletamento del concorso e sono stati abbondantemente superati sei mesi di affidamento temporaneo dell'incarico previsti dalla legge regionale dell'Abruzzo numero 42 del 2013 all'articolo 5,6. Tirabassi aveva già presentato un'interrogazione nel marzo 2019 in cui chiedeva conto delle modalità di sostituzione del maggiore litigante. Fra le varie criticità scrive ebbi modo di rilevare l'assoluta inerzia dell'amministrazione riguardo le procedure che avrebbe dovuto seguire per ricoprire quella posizione. Il pensionamento del comandante litigante era cosa nota già da sei mesi prima ma ciò nonostante l'amministrazione comunale nulla fece nel frattempo per inserire questa posizione nel piano triennale del fabbisogno del personale e per avviare le conseguenti procedure di concorso per il reclutamento. Sei mesi andati ma non si ravvisa alcuna volontà da parte dell'amministrazione di dare quantomeno un piccolo segnale in ordine all'avvio delle procedure di reclutamento considerato che la posizione non è stata nemmeno inserita nell'ultimo piano del fabbisogno del personale con delibera di giunta del 30 ottobre 2019 successiva alla data dell'ultimo decreto di attribuzione temporanea di funzioni che osa il consigliere.